Ciao a tutti, mi chiamo Giordano Casali, ho oggi 32 anni, sono originario di Valentano, provincia di Viterbo e nel 2014 ho scelto di arrolarmi nella legione straniera perché ho fatto due anni militare in italia prima dal 2010 al 2012 ero in vfp1 in cavalleria e con il sogno di appunto arrivare a paracatutista, incursore, lagunare, qualunque cosa fosse al momento pur di fare questa vita qua perché perché pensavo mi piacesse che forse sarebbe abbastanza la pena farlo in italia non sono riuscito per il semplice discorso di concorsi e cose che tutti sanno e quindi un po' stanco del sistema un po' stanco di aspettare ho preso la decisione di partire per l'estero e entrare nell'esercito dove stranieri potessero arrolarci e fare il loro percorso e quindi mi sono prima informato so che non ci sono tante informazioni al riguardo e così sarà però ecco appunto su quello che riguarda l'arrollamento è tutto chiaro è accessibile a tutti dal portale internet del sito della legione straniera e che consiste in sintetizzando quello che c'è scritto in lungo sul sito se volete fare questa scelta per chi volesse fare questa scelta basta un documento di riconoscimento valido presentarsi in uno dei centri di reclutamento che sono sparsi quasi in tutta la Francia però per chi viene dall'italia da italiano consiglio di andare direttamente a Dobagne perché è il primo reggimento madre viene chiamato la maison mère quindi reggimento madre cioè dove tutti nascono e tutti muoiono della legione cioè comunque vada in qualunque condizione si lasci la legione si passa da Dobagne sia nel congedo sia nel fine carriera sia nei funerali e tutto quello che riguarda comunque lasciare la legione straniera e quindi è più semplice andare direttamente lì e fare tutto lì le procedure di arrollamento le visite mediche visite psicologiche tutte queste cose qua le donne non possono arrollarsi nella legione straniera perché non perché si faccia un discorso maschilista o femminista ma perché per natura umana cioè la composizione fisica della donna la impedisce di stare e vivere in determinati ambienti perché è stata approvata questa cosa anni fa non mi ricordo quando ma voci di corridoio ci hanno raccontato che quattro donne provenienti dalle forze speciali francesi quindi non donne comuni molto preparate quindi professionalmente sono state messe con una sezione di legione in guiana la guiana è foresta quindi palude e mangrovie beh dopo qualche settimana le hanno dovute la quale tutte perché appunto sono arrivate le mestruazioni ciclo mestruale che è naturale in una donna e una donna se non riesce a mantenere un certo igiene in questo momento della sua vita rischia la setticemia quindi sono state dovute evacuare appunto per un discorso naturale non per un discorso di non riuscire a farcela perché il legionario è appunto sta in quei posti lì vive lavora in quei posti lì non è non ha il comfort della caserma del bagno della doccia deve riuscire a stare in determinati posti per mesi soprattutto in cittadina si sta lì per mesi nella foresta e quindi una donna non riuscendo ovviamente così come l'uomo ma essendo più resistente naturalmente non resistente di forza muscolare o mentale anzi anzi essendo più forte naturalmente riesce a vivere più tempo in quei posti che non è che è successo anche che a volte sono stati evacuati degli uomini per le stesse motivazioni quindi solo che le donne appunto anche se non avessero per motivi di salute il ciclo mestruale avendo una composizione fisica fatta diversamente da quella dell'uomo stando nelle mangrovie essendo in posti molto infettati può avvantaggiare molto di più la setticemia rispetto a un individuo maschio e quindi è l'unico motivo per cui non si arruolano le donne è questo non perché sia un esercito maschilista o estremista come come si vocifera perché mi sono arruolato perché volevo appunto mettermi alla prova più che altro e in quel senso lì quindi non è niente di impossibile perché se l'ho fatto io lo posso lo può fare chiunque il consiglio che posso dare più che consiglio è una realtà è che conta molto la mente al di là del fisico il fisico prevedere da sé magari o no non è non è fondamentale viene la cosa più importante alla mente cioè essere determinati e volerlo fare a prescindere il il percorso inizia appunto così dove c'è un un'accoglienza al cancello al portacarraia in italiano si chiama dove si entra e si vengono accompagnati in un ufficio ovviamente nel momento in cui entrate vi scorderete l'italiano perché sentirete parlare solo francese non esiste altra lingua di fuori del francese da quel momento in poi e anche perché l'unico modo per impararlo poi vengono presi tutti i vostri beni tutti i vostri effetti personali tutto quello che avete viene preso e viene messo in una parte custodito e da quel momento in poi voi non potete più accedere a telefonino carta di credito passaporto qualunque cosa c'è praticamente tagliati fuori dalla realtà dal mondo dal mondo perché per una questione di sicurezza perché non vogliono che vengano fatte delle foto non vogliono che vengono registrate determinati audio e soprattutto questo lo si capisce poi perché nel mentre è normale che siamo tutti dei pesci fuori di pesci fuori d'acqua ma in quel momento lì è fondamentale perché è già quello un inizio dell'addestramento cioè un tagliarvi dalla vostra vita passata qualunque essa sia a prescindere dal fatto che veniate da una famiglia di di alto rango che siete cresciuti in orfanotrofio tutti sono uguali tutti a prescindere indistintamente anche perché non avrete un nome nel senso che vi errorerete con il vostro nome ma verranno fatti dei controlli questi controlli servono appunto per vedere la vostra fedina penale il vostro status nel vostro paese d'origine perché perché non più come tanti anni fa si arruolavano solo ergassolani o gente che usciva da di prigione ma si arruolavano anche persone come me che hanno una fedina penale pulitissima e non avevano niente da nascondere o da dover dimenticare per forza nel paese d'origine e quindi hanno un po ridimensionato la cosa sul sul discorso appunto ex ergassolani nel senso che in base a che crimini si sono stati commessi nel paese d'origine non si viene più arruolati cioè se questi crimini sono troppo gravi non si viene accettati per un motivo di appunto immagine che oggi la francia vuole dare motivi questi non lo so non li sa nessuno probabilmente è questo è quello che è stato deciso stavolino e invece in base sono stati commessi i crimini più più semplici più che poi c'è distinguerli è difficile comunque in base a quelli che sono i criteri loro non si sanno perché alcuni sì altri no e non è che danno mai una spiegazione cioè dicono tu sì tu no tu sì tu no basta appunto non è che stanno tanto a perdere tempo nelle chiacchiere è così che funziona al sistema là dentro e quindi perché avesse commesso dei crimini e volesse arruolarsi non posso dirvi in base al tipo di crimine che avete commesso se vi possono farvi entrare o meno perché è una cosa che stanno solo all'interno della del centro selezione dopodiché si procede con le prove fisiche che sono molto semplici al contrario di quello che si possa pensare di fare cose impossibili no superman io dico sempre in televisione lì non lavora superman lavorano persone normalissime fisicamente perlomeno e quindi viene richiesto di fare qualche attrazione è una corsetta molto semplice è una ventina di addominali poco di più quindi è più che altro per vedere la vostra sufficienza fisica cioè al ruolo questa persona perché comunque è di sana e robusta costituzione come certificato medico che si fa dal dottore quando si va in piscina uguale tutto lì insomma poi si fa una visita psicologica la visita psicologica la fate nella vostra lingua d'origine quindi per chi avesse paura di dire non so il francese o l'inglese non è un problema lì dentro si parlano tutte le lingue del mondo quindi da qualunque posto veniate che faccia parte di questa galassia lì dentro la lingua viene compresa e parlata con voi quindi non è un problema fate il colloquio nella vostra lingua d'origine e vi verranno fatte delle domande semplici appunto per vedere qual è il vostro diciamo comportamento medio standard nella vita normale vengono solo domande molto banali e in genere si tende a prendere persone non troppo passatemi il termine per bene nel senso che una persona che qui in italia voleva fare il notaio quindi aveva una vita di ufficio dei modi molto aristocratici e tutto quanto lì si storce un po il naso perché per forza non è quello l'ambiente che andrete a vivere e quindi si cerca un po di fare la selezione già su quel senso lì perché questo perché c'è un alto numero di disersione e quindi la disersione è scomoda sia perché diserta sia per chi per la regione perché appunto si vengono con la conoscenza di determinate cose si vengono a scoprire posti luoghi tutte queste cose e che sono scomode se poi un disertore uscendo le va a sperperare 4 20 e quindi è per questo che la la scrematura iniziale che è molto semplice viene fatta per questo motivo qua e le visite mediche sono riguardo quello che era appunto la sana robusta costituzione cioè se avete fratture gravi alle articolazioni è difficile che vi lasciano entrare perché lavorerete molto sulle articolazioni soprattutto in base al tipo di reggimento in cui andrete a finire o sceglierete di andare voi però quello che riguarda la vista l'udito non è vero che dobbiamo essere piloti daerei non è chiesto a nessuno di essere un pilota daereo avere 10 decimi e sentire come un come una lepre no se è un udito normale sino io ho 8 decimi 9 decimi quindi non sono un falco ma sono entrato tranquillamente non è non è richiesto di essere un falco neanche per chi volesse diventare sniper perché magari c'è qualcuno che vuole vuole fare lo sniper quindi non è non è richiesta la perfezione è richiesta assolutamente la normalità la semplicità la dedizione la devozione e la convinzione di fare quello che si sta scegliendo di fare tutto qui e dopo di che se tutto questo va bene insieme ad un gruppo di persone che mediamente sono un centinaio io parlo per la mia esperienza perché poi appunto come dico mi sono arrivato nel 2014 e da 2014 a oggi so che sono cambiate un po di cose riguardo anche l'arruonamento quindi posso aiutarvi a rispondervi per quello che era nel 2014 che sicuramente era un po più duro di quello che è adesso perché sono cambiati un po i tempi i modi il lavoro in sé proprio è cambiato quindi la francia richiede altro oltre a chiede anche altro quindi sono cambiate un po di cose che come sono cambiate non posso aiutarvi su questo non lo so però su quello che è stata la mia esperienza posso dirvi che si raggiunge un numero di centinaio di persone e da lì si va a castello darì castello darì è il quarto reggimento straniero cioè viene chiamato il reggimento di istruzione cioè tutti i legionari a prescindere dal grado il reggimento di appartenenza vanno a castello darì a fare l'addestramento il primo famosissimo addestramento di sei mesi circa il mio ha durato sei mesi come vi ripeto non avete orologio non avete telefono non avete niente quindi voi dopo io ho retto una settimana circa più o meno a contare i giorni poi dopo di che mi sono perso e non sapevo più che giorno fosse che ore erano non sapevo niente vedevo solo che c'è il sole la luna e basta o caldo o freddo in base alla stagione io mi sono arruolato a gennaio quindi era molto freddo perché castello darì è sotto i pirenei quindi è freddo perché se ti piace il freddo arruolatevi d'inverno se mi piace il caldo arruolatevi d'estate ma entrambe le stagioni le odierete perché comunque lì sarà all'estremo di ogni cosa che uno può immaginarsi una volta che entrate a castello darì andate in una compagnia di addestramento si chiama in francese compagnie d'angasci volontaire cioè una compagnia di arruolamento di volontari tradotto più o meno in questa compagnia ce ne sono ce ne erano sicuramente tre penso siano rimaste tre si vociferava quattro qualche anno fa ma penso che ci sono ancora tre compagnie io ero finito nella prima compagnia non cambia niente in questo reggimento la compagnia non cambia niente si entra lì e si fa l'addestramento di appunto sei mesi circa cosa si fa in questo addestramento allora si impara tutto quello che riguarda la vita militare quindi la vita di caserma di farsi letti pulire soprattutto legionario pulisce tutto ogni cosa nei pavimenti per terra potete mangiare dentro le compagnie di arruolamento perché quattro volte al giorno c'è un orario prestabilito dove si fanno le famose corve cioè le pulizie e tutti fanno le pulizie quindi la maggior parte del tempo voi vi direte è ma questo non è il militare si forse sì ma quello è fatto per il dopo cioè tutto quello che farete all'inizio all'inizio non lo capirete e direte ma che sto facendo qui non è questo quello che voglio come facevo io e quindi magari tanti iniziano a disertare già da lì perché si aspettavano di imparare ad uccidere di imparare a a fare queste cose qua e invece no prima si impara quello si impara a marciare si impara a cantare il legionario canta dalla mattina alla sera ogni volta che marcia un legionario canta quindi odierete proprio quello che fate lo direte con tutto il cuore cioè per me per me quello che erano con me lo odiavamo con tutto il cuore non è per smontare il mito della legione ma questo è una premessa che serve a capire il dopo della legione c'è la folla pera forza della legione non è l'armamento il fisico è questo cioè aver pulito insieme aver cantato insieme aver fatto tutte queste cose insieme perché perché poi in un determinato contesto dove si è staccati fuori dal mondo si deve per forza fare amalgama non puoi non andare d'accordo con i tuoi camerati è impossibile o meglio molte volte non si andrà d'accordo e quindi lì dentro quando non si va d'accordo non è come a scuola che si alza la mano e si dice maestra carlo mi dà fastidio non è così lì è un po più cruda la realtà perché perché per quello che riguarda me io ero l'unico tra centinaia di persone che aveva questa situazione qua cioè ero partito da valentano che aveva una famiglia un lavoro volendo è una situazione normalissima e molto stabile quasi invidiabile oggi in italia diciamo è invece quello dopo di me nella scala di diciamo di gravità di cose erano cresciuti non fanno trofio quindi la media lì dentro è che appunto ci sono persone che essendo cresciuti non fanno trofio per forza di cose non ragionano come voi come voi parlo a chi è come me di carattere come chi magari ha la possibilità di avere internet e tutte le comodità e comfort che ci sono né in europa oggi più o meno quelli che sono cresciuti non fanno trofio per forza di cose hanno una realtà diversa da quella che è appunto da chi è cresciuto in una famiglia benestante magari che c'era anche chi appunto veniva da una famiglia benestante statisticamente sono i primi a disertare perché appunto vengono gli venne sbattute in faccia una realtà molto cruda e scontata forse perché appunto per loro per la legione è normale quel mondo lì non il mondo dell'aristocrazia della borghesia e quindi è è questo quello che poi dovrete diventare anche se non lo siete se volete se no c'è la vita di caserma ogni tanto si va sul terreno ogni tanto nel senso che se si va sul terreno si va per molto tempo e con una frequenza quasi costante però non è che si stanno sei mesi o cinque mesi sul terreno molto spesso si ritorna al reggimento dove c'è una rimessa in condizione di tutto quello che è il materiale prima e poi voi perché perché il legionario prende a cura molto spesso sempre di più del suo materiale poi della sua persona perché perché il materiale se non funziona è un guaio se il corpo non funziona è colpa della mente questo è quello che vi viene insegnato non esiste dolore non esiste sonno non esiste fame non esiste stanchezza ovviamente come io dicevo all'inizio sono tutte assurdità non è vero perché se riuscite a fare lo switch mentale di questa cosa qua è così a oggi non so spiegarvi come ho fatto per fare questo switch o lo fate o non lo fate non c'è una scuola o non posso darvi un consiglio su questo cioè come come mettere al primo posto il lavoro e poi la vostra vita o la vostra salute non lo so è una cosa mentale che c'è chi ce l'ha e chi non ce l'ha quindi è come fare l'astronauta se una paura degli spazi vuoti e cose così non può insegnarvi a non avere paura dello spazio mi può insegnare come fare l'astronauta ma non avere paura di quella cosa non si può insegnare quindi nella legione è questo quello che viene richiesto la dedizione prima di voi e non è il classico lavaggio mentale come fanno magari nei film o in america molto spesso purtroppo perché ho lavorato con degli americani con dei sil e loro sono altre metodologie che poi vi racconterò per quello che so nella legione è visto che proprio cioè questa è la normalità è la normalità e cosa vi può aiutare lì a passare ad affrontare questo step che è l'unica vera forza della legione cioè l'unico scoglio l'unica differenza tra la legione qualunque altro esercito è proprio la forza mentale di metterla al primo posto il lavoro e poi la propria vita è la coesione il cameratismo questo è l'unica cosa che può aiutarvi perché ritornando indietro se dovessi ripensare a tutte le al mio addestramento era proprio erano appunto i miei colleghi che mi aiutavano mentalmente ad andare avanti perché tutti dimagriscono molti chili dimagrirete tantissimo quindi il consiglio che vi do è non spendete per chi vuole andare sia chiaro tempo e denaro a diventare big gym perché tanto una volta che entrate lì dopo due mesi perdete minimo 20 chili quindi tutto il tempo e i soldi che avete speso li lascerete a castellano da lì dopo qualche tempo perché perché mente sana in corpo sano e quindi come faccio io parlando da istituzione da istruttore a vedere se quel soggetto è veramente valido lo metto allo stremo cioè avendo un fisico che non risponde che è stanco che ha sonno che ha sete che ha fame che è debole l'unica qualità che rimane una persona un essere umano è la mente quindi per analizzare la sua mente ho bisogno di annientare il suo fisico e come faccio semplicissimo vedrete che dopo un mese massimo tutti crollano tutti chi prima e chi dopo vero io sono stato tra le prime a collare perché appunto venivo da una realtà molto adagiata però poi appunto si aspetta il limite quando tutti hanno parlato fisicamente dopodiché lì saranno la legione e gli istruttori a ricostruirvi come vogliono loro e non è un lavaggio il cervello perché non è che vi dicono che la legione al primo posto non sentirete mai queste cose sentirete molto attaccamento alla legione ma la legione non è la francia cioè non è un istituzione non è un simbolo non è una religione o una persona la legione è sono i legionari cioè la legione è la tua sezione la tua compagnia il tuo reggimento è quella la legione non è un l'esercito o la bandiera che vi attaccano qua per quale combattere non è quello la legione è appunto le persone che avete vicino quella è la legione e quindi qual è poi il meccanismo che si scatta automaticamente questa è l'indole umana animale cioè loro cercano di tirarvi fuori appunto l'indole animale perché quello che avete imparato sui libri l'avete imparato non siete nati sapendo che napoleone era l'imperatore di francia il vostro comportamento animale vi viene tirato fuori solo seguendo un determinato percorso e non è che sono dei psicologi o dei psichiatri gli istruttori fanno quelli perché quella è la scuola la tradizione è un'altra cosa di cui sentirete parlare tutto il giorno per tutta la vostra vita da legionario e la tradizione tutto si basa sulla tradizione della legione cioè questo si fa così perché tradizione questo si canta così perché tradizione e tutto è una tradizione ma fondamentalmente il vero motivo è che si fa perché funziona se è stato fatto così a sidi belabeb in algeria viene fatto così oggi in mali a bagao perché funziona tutto qui e file che più facile rispondervi a tradizione anziché starvi a spiegare perché appunto perché non esiste perché nel momento in cui voi vi arruvate dovete cercare che è molto difficile questa cosa perché è proprio la parola che ha permesso all'uomo di evolversi se siamo oggi sapiens e non più erectus perché l'uomo si chiede perché altrimenti eravamo lì ancora con le pietre focaglie là dentro dovrete scordarvi il perché non esiste perché non esiste perché vi viene detto gianni fai questo si punto oppure non devi fare questo no basta cioè perché non esiste il che pensando ora a tavolino che abbiamo dormito abbiamo mangiato voi direte è semplice non chiedere perché si la è impossibile perché vi verranno chiesti di fare cose assurde ma assurde non impossibili di metterle in pratica che non hanno senso ma lo fanno proprio perché vogliono vedere se voi riuscite a smettere di ragionare con una persona e dovrete iniziare a ragionare come una macchina e non è che macchina inteso come termine non di crudo e violento e robottino che segue basta no nel senso appunto come devozione cioè lo faccio perché l'ha detto il mio capo squadra il mio capo gruppo il mio capo sezione il mio comandante di compagnia punto non è che perché perché sono uno schiavo no non è questo il messaggio che che vi trasmetteranno è appunto il fatto che io se ti dico di farlo perché l'ho fatto prima di te è tutto qui che vi ripeto cioè questo che vi sto dicendo io oggi permettetevi di dirvelo è oro colato perché io l'ho capito dopo anni che stavo là dentro quando sono entrato io nessuno ma spiegato ma queste cose ho dovuto capirlo subendole queste cose e forse subendole è il modo più più forte più quello che funziona di più per capire queste cose se uno ve le spiega difficilmente poi riuscirete a metterle in pratica però comunque lo switch mentale che dovete fare questo smettere di ragionare sulle cose che vi vengono dette ragionare solo su come farle e quando farle e basta quindi la spiegazione è molto semplice però appunto per una persona per un essere umano è quasi impossibile per quello che ho visto non chiedersi perché ma la vera forza della legione è quello cioè obbedire senza ripensamenti senza rancori o senza conseguenze farlo punto e basta anche la domanda che magari vi può venire in mente anche a costo della vita sì anche a costo della vita perché è il mestiere che avete scelto eventualmente voi di fare di mettere in pericolo la vostra vita ma questo non significa che è il mestiere più pericoloso del mondo perché per esempio per me è molto più pericoloso mettersi su una moto e andare a 250 su rettilineo a Valencia piuttosto che fare quello che ho fatto ma questo perché magari uno è portato per fare un mestiere l'altro è portato per fare un altro mestiere quindi quello che è pericoloso è io dico sempre è relativo è relativo in base alla persona che fa quel tipo di lavoro sport quello che sia e in base anche al tipo di lavoro sì è vero la legione usa metodi e lavora in posti molto pericolosi già di su però vedrete che appunto se c'è la coesione c'è la vostra devozione concentrarvi al cento per cento su quello che avete scelto di fare vi rendete conto piano piano che non è poi così effettivamente pericoloso come quanto uno possa immaginare la paga è molto bassa rispetto a quello allora dirvi quant'è, date la mano beh poi dipende da tante cose perché dipende se si va sul terreno c'è un'indennità in più se si sta tutto il tempo in caserma c'è un fisso e se si va all'estero si prende un po' di più ma se la domanda è per soldi lo faresti assolutamente no ma neanche per 10.000 euro al mese non varrebbe comunque la pena quindi che non è assolutamente questa la cifra ma non vale la pena assolutamente non fatelo assolutamente per soldi qualunque cifra vi offre perché è la vostra vita cioè è come se io vi chiedo quanto vale la vostra vita e voi riuscite a darmi una cifra se me la date allora quella è lo stipendio che potete chiedere per me la mia non ha valore quindi farlo per soldi non ha senso e oltretutto comunque è poca la paga è poca quindi non vale assolutamente ancora di più non vale la pena è uno stipendio diciamo medio francese è uno stipendio medio francese così come quello in italia lo stipendio medio italiano è visto da operai e da militari lì più o meno lo stesso quando si va all'estero c'è una indennità in più ma rispetto a quello che fate come è stato all'estero è una miseria metà soldi vi servono per spendere le medicine per riprendervi poi quindi e le spese mediche ovviamente tutto quanto comunque la regione su questo dà un appoggio molto importante perché sia a livello assicurativo che ospedaliero avete spese zero ma tutto quello che riguarda ovviamente gli integratori appunto si integratori per riprendervi più velocemente per avere una reazione un'attività fisica più prestante a spese vostre quindi passa tutto quello che è nell'ordinario e anche nello straordinario in caso di necessità appunto ospedaliera ma tutto quello che è in più sia a livello di equipaggiamento che a livello di interesse personale fisico è a carico vostro quindi dopo l'addestramento la fase di addestramento poi dopo la vita di caserma vi insegneranno ad usare appunto ovviamente le armi le insegnerete a sparare le granate quando mi sono orato io c'era il famas oggi c'è l'hk io ho sparato una volta con l'hk quindi il famas era un fucile buono era un buon fucile era meccanico funzionava con la meccanica quindi non era recupero di gas era molto preciso pesicchiava come fucile d'assalto e il problema che aveva il famas è che spesso si inceppava perché appunto era meccanico quindi richiedeva una manutenzione molto più curata di fucile a gas fucile a gas per chi magari non ha del mestiere sono i skalatnikov così spieghiamo tutto a tutti e quindi appunto ecco perché nella legione viene sempre messo il materiale al primo posto cioè la rimessa in condizione è prima del logistico poi della persona cioè sintetizzando e spiegando sono in una pattuglia in una marcia ho dieci minuti di pausa in quei dieci minuti di pausa devo sistemare prima tutto il materiale che ho per lavorare poi eventualmente mi riposo io il tempo che rimane non è il contrario questa è una legge là dentro è una regola che tutti fanno quindi grazie a questo la legione comunque lavorava bene anche col famas proprio perché appunto erano sempre illustri i fucili anche mentre sparavano e quindi era non era uno svantaggio così grosso però poi appunto magari un po il business degli armamenti un po l'evoluzione un po i tempi che cambiano si sono adattati hanno e hanno appunto adottato l'hk eclair and clock che belga un ottimo fucile che recupera gas è un po meno preciso del famas ma per quelle che sono oggi gli ingaggi e l'impiego delle armi capite bene che avere una precisione a 300 metri con un fucile d'assalto è quasi inutile cioè non è non è lì la differenza ma appunto magari è nell'inceppamento dell'arma a 50 metri lì è un problema e succede e quindi lì se non si è bravi non si è preparati sono dolori a 50 metri la precisione è relativissima perché non serve mirare 50 metri dopo che avete fatto un determinato percorso è ovvio che se domani andate al poligono e sparate 50 metri non ci prendete di giordano dice minchiate no non vanno dice minchiate ma è che parlando da professionisti chi spara in poligoni chi usa frequentemente armi a 50 metri tocca quindi il contasero semplicemente la dinamicità ecco che ne ho tiro dinamico e la mobilità e l'uso dell'arma e la maneggevolezza dell'arma tutto qui e quelli in questo l'hk è molto molto buono e come pistola si aveva la beretta la 92 non il modello come quello che hanno i carabinieri ancora oggi in dotazione per chi conoscesse l'fs se non sbaglio si chiama il modello ma un adozione che era uguale ma non aveva la sicura l'unica cosa che di che cambiava era la sicura che non c'era abbatteva solo il cane il martello ma comunque se si premesse sul grilletto il corpo partiva perché appunto viene molto martellata la terapia del mare del mare della del maneggio e dell'utilizzo delle armi e infatti quello che sentite dire magari è la martoterapia cioè terapia martello nel senso che per farvi insegnare a usare la pistola cioè non a sparare a maneggiare la pistola starete magari due giorni su un piazzale senza dormire a mangiare bene andare in bagno a usare la pistola cioè starete due giorni di fila ad usare la pistola come dicono quindi voi a me è successo che dormivo e muovevo le mani probabilmente magari maneggiavo la pistola nel sonno succede perché lo fate a livello di esaurimento nervoso cioè vivi vi portano all'esasperazione a forza di farvi vedere come si fa una cosa e quella cosa funziona perché perché se io vi spiego oggi in un secondo come si usa una pistola poi la sapete usare la pistola ma in condizioni di non stress di tranquillità di serenità e di pace armoniosa massima quando siete in un determinato di azione c'è quella che viene chiamata la memoria muscolare la memoria muscolare serve quella che appunto il vostro corpo fa in automatico cioè come per un tassista a frenare quando vede degli stop della macchina davanti che si accendono che si accendono lo fa perché lo fa da una vita e quindi alla memoria muscolare è quello che un professionista fa non è un legionario questo lo fanno tutti i professionisti quindi vi faranno lì a livello un po più esagerato perché appunto richiesta la popolazione degna di usare le armi come fino a ieri voi avete usato una penna a scuola quindi sarà lo stesso paragone poi le armi di di base sono appunto il fa il fucile d'assalto oggi hk la glock 17 non c'è più la beretta 92 come usavo io avendo oggi la glock 17 posso dire che è meglio la glock 17 però la beretta comunque un'arma che non abbandona mai è come il kalashnikov dei fucili e la minimi la minimi è una mitagliatrice leggera ci sono due calibri 556 762 principalmente usate della 556 perché 762 si usa la mag 58 che è un'arma di reparto cioè per usare la mag dovete fare poi un corso eventualmente se vorrete che vi piace il lanciamissili l'rx che è un missile che usa la legione c'è in ogni gruppo di combattimento poi vi spiegherò magari la composizione della sezione di combattimento usa quelli che non hanno i lanciamissili usano dietro le mag 58 che sono questi metagliatrici pesanti da 762 il calibro poi maneggerete anche la browning la calibro 50 51 non mi ricordo come in italiano comunque la 12 7 calibro nato che è la mitagliatrice quella pesante che si usa sui mezzi o sul treppiedi cioè un'arma da postazione questo lo farete durante tutto l'addestramento cioè molto spesso andrete a sparare al poligono sparerete innumerevoli quantità di munizioni dal giorno alla notte dal giorno alla notte si intende dalle 2 di notte alle 4 di mattina del giorno dopo cioè non stop voi state lì e sparate che sia caldo che piova che sia freddo che avete male dovete sparare sparate punto e l'equipaggiamento si appunto di notte imparerete a usare il lobby 70 che è un visore notturno ovviamente l'equipaggiamento della legione è molto vecchio perché perché costa costa rinnovare l'equipaggiamento e chiedere a una persona di avere un risultato ottimale con quell'equipaggiamento non costa costa l'operatore quindi che succede ritornando al discorso che ho fatto prima la differenza tra le giornali qualunque altro soldato è anche questa avere un risultato ottimale usando strumenti passatevi i termini preistorici perché lo b 70 lo b 70 era un visore della seconda vera mondiale oggi i sil e i sas altri corpi hanno visori notturni da fare invidia alla nasa quindi capite bene che un conto è fare un lavoro con uno strumento antico poco prestante e un'altra cosa è ottenere un risultato con uno strumento molto prestante quello che vi viene chiesto è di avere lo stesso livello di prestazione punto come dipende da voi dall'operatore da chi è lì è lui che deve fare più del doppio dell'altro per avere lo stesso risultato e quindi è questa la forza quindi per chi dovesse chiedere chi è più forte il legionario che sono domande che ho sentito nessuno è più forte è appunto come uno usa quello che gli viene dato tutto qui quindi ok un legionario è abituato ad usare il famas che si inceppa è ovvio che un sil con m4 nuovo di zecca e non si inceppa quindi su uno scontro a fuoco le probabilità sono molto più alte del del soldato americano ma non sempre alla meglio perché perché è la mentalità del legionario che è disposto a morire pur di raggiungere quell'obiettivo lì quindi è tutto sul piatto della bilancia non è non è non è un esercito più forte o uno più più debole è appunto la fortuna tanta tanta fortuna e come voi sfruttate quello che avete tutto qui che sia dall'equipaggiamento dal logistico dal vostro fisico e dalla vostra mente e dal terreno si gioca tutto sul momento non è una più forte una più debole poi una volta finito l'addestramento durante l'addestramento ovviamente starete tanti giorni nei boschi quindi si imparerete nessuno vivere di insegnare cioè non si fa un corso di sopravvivenza quindi quelli che dicono io so vivere nel bosco nel deserto sì ma non è che perché c'è sì oggi so stare nel deserto non è che perché qualcuno veniva da me mi diceva guarda devi fare così per non prendere il sole tu vieni buttato nel deserto e ti dicono la missione è questa o l'addestramento è questo punto sei tu che mentre stai lì devi cercare di al di là di tutto quindi la lontananza da casa lo stress la paura la fatica il sonno la stanchezza comunque devi avere l'obiettivo della missione in mente che è quello quello che conta e per arrivare lì devi cercare di arrivarci possibilmente vivo e quindi devi adattarti tu in base all'ambiente in cui sei di non dire di essere in condizioni di poter arrivare appunto funzionale poi vivono loro l'importante che funzioni come soldato e quindi quello che ho imparato oggi o nel bosco nella foresta nelle paludi nel deserto dove sono stato è proprio perché mi trovavo lì e rubi con gli occhi vedi quello che fa così diciamo che lo faccio anch'io non è nessuno mi verrà fare un corso di provvivenza o accendere il fuoco con le petri fuocaie anche perché parliamoci chiaro nel 2014 anche se era qualche anno fa c'erano gli accendini quindi e se uno dice è ma se non è l'accendino non hai tempo neanche di fare il fuoco se non è l'accendino oggi perché non esiste più l'abbandono nel senso che non è che c'è la guerra del vietnam che andavate nella giungla e nessuno sa più dove siete che fate oggi avete io in chili avevo più o meno 30 40 kg di peso addosso che era appunto l'equipaggiamento e tra tutto questo tutto questo c'era anche radio gps e tutto quanto quindi sanno dove siete sanno che fate e eventualmente vi vengono a prendere non come gli americani che dopo due minuti avete tre a pace sul posto ma più o meno grosso modo dopo un po di tempo arriva un elicottero che vi viene a prendere quindi quello che viene richiesto sì rusticità assoluta perché se l'elicottero si rompe comunque si arriva camminando però non è questo la base cioè non è che appunto dovete curarvi le ferite da soli è tutto più funzionale oggi anche perché il discorso che fanno è che quanto mi costa addestrare x tot all'anno quindi ha un valore quella persona non è che poi per carità cioè se uno non ciò dovesse fare o in combattimento dovesse non tornare a casa è il lavoro che uno ha scelto di fare però non è che quando sarete lì avrete magari la sensazione che è appunto di essere abbandonati ma non è non è vero non è quello però ecco sì dovrete sopravvivere durante l'addestramento anche in determinati tipi di ambienti a cavarvela da soli appunto essendomi annullato a gennaio a febbraio ero a formiguerre formiguerre sui pirenei una stazione scistica vicino alla spagna dove appunto io essendo lì in un momento di neve un ambiente di nevato invernale ci insegnavano a fare delle cose inerenti al discorso neve quindi marce su pelli con gli sci con le pelli di foca per chilometri chilometri e dovete imparare anche lì a coprirvi imparate a coprire imparate a cercare l'acqua quando magari non potete portarvela dietro con la neve imparate a cercare l'acqua nei boschi e tutto quanto quando si va nel deserto si impara a cercare l'acqua nel deserto perché molto spesso quello che avete nei veicoli o sui mezzi non è sufficiente al tempo che viene richiesto di di stare nel punto in quella mente lì quindi dovete si cavarvela da soli anche a volte ma non perché non perché venite abbandonati ma perché è l'ambiente stesso che è molto ostile all'uomo e tanto è vero che solo alcuni eserciti operano in quegli ambienti lì parlando della francia solo la legione opera in determinati ambienti perché l'esercito francese non è che non è valido non è preparato mentalmente non riuscirebbe a sostenere un'operazione più vivere in quel contesto lì quindi è questa la differenza legionario è normale che viva in quel contesto lì poi la missione solo è solo il suo lavoro vivere lì è normale una persona un soldato professionista è molto più difficile mentalmente che riesca a portare a termine per bene la missione e al tempo stesso riuscire a vivere in condizioni decenti in quel tipo di di habitat e quindi questo è questa la differenza sostanziale tra legionario e un altro operatore la lingua la lingua la imparate durante i corsi i corsi quando si fanno di notte perché di notte non dormite non si dorme o molto raramente o a volte ci sono giorni in cui dormite basta lo fanno anche per destabilizzarvi perché non avere una regolarità di sonno al corpo umano lo destabilizza molto più di ogni altra cosa tanto è vero che mi è successo di camminare e non ricordarmi la strada che ho fatto ma non perché soffritti d'alzheimer perché ero veramente in trance cioè non non mi ricordavo la strada come come avessi fatto ad arrivare in quel posto lì succede perché quando non dormite per giorni e tu dici come fa a camminare dormire non so però succede ma è successo quindi ti ritrovi in quel posto e non sai come sei finito lì e è normale cioè il minimo che possa succedere quindi dopo di questo una volta finito l'addestramento il francese appunto non lo imparate per forza perché tutti parlano francese è vero anche che per i latini è più semplice perché la grammatica è molto simile le parole molto spesso si assomigliano cambiano solo un po l'accento quindi più facile è vero io dopo un anno grosso modo parlavo abbastanza bene il francese mentre invece ovviamente per i russi cinesi tutte queste nazioni che hanno totalmente un alfabeto diverso è molto più difficile ma è anche un problema per chi è più avvantaggiato perché appunto per me che sono più avvantaggiato nel parlare questa lingua devo preoccuparmi che il mio collega quando mi parla mi capisca quindi sta prima voi imparate prima voi dovete aiutare gli altri ad impararla cioè nessuno è avvantaggiato in qualcosa lì dentro perché anche fisicamente chi è più prestante deve tirare chi è più debole deve tirarlo e magari la domanda è perché chi è più debole non viene lasciato indietro perché non si abbandona mai né armi né soldati mai per nessun motivo al mondo è inesistente questa cosa non esiste prima dovete pensare a voi ma una volta che voi state bene la seconda cosa a cui dovete pensare è il collega che avete vicino e basta questa è l'unica vostra preoccupazione sia in addestramento sia nella vita di caserma sia in operazione nella vita di caserma per esempio un'altra cosa che vi porteranno all'odio contro questa cosa è lo stirare stirare le divise perché perché dovete avere tutti i giorni le divise stirate perfette sia mimetiche sia divise in italia viene chiamata la drop la così chiamata drop la si chiamate def dovrà essere sempre assolutamente impeccabile quindi per chi non è capace di stirare chi sa stirare o imparerete a stirare ve lo garantisco perché io sono partito che non sapevo stirare ho sempre fatto tutto a casa ma stirare mai li ho imparato benissimo perché starete giorni e giorni con ferro da stiro in mano a stirare la divisa finché non è come dicono loro perché perché con loro la legione ci tiene molto all'immagine quindi un'immagine di un soldato ordinato preciso e curato è tutto è tutta un'altra storia rispetto a un soldato trasandato quindi è tutto quello che per sintetizzare quello che è come la legione è tutto estremizzato tutto l'aspetto la il comportamento la devozione la professionalità la prestanza fisica la lingua è tutto estremizzato ai massimi livelli cioè più voi avete un un livello alto in queste cose più sarete un buon legionario e voi dite è ma se stiro bene a me alla fine che che mi cambia se stiro bene piuttosto che se sparo bene cambia perché perché nella vita di una caserma nella vita comunque di un soldato c'è anche il rapporto tutto dipende da voi nel senso che è vero che chi vi chi è il vostro superiore ci tiene che voi siete un buon combattente un buon soldato sì ma c'è anche la vita di caserma cioè i picchetti le cerimonie le sfilate tutto questo la legione è enfatizzata al massimo in francia tanto è vero che il 14 luglio per la chance di sé la legione stila per ultima perché perché è quella che c'è al passo più lento sì ma è anche quella più che viene più aspettata da tutta la francia per vederla sfilare perché non non perché sono un ex legionario ma perché veramente la parte più bella di tutta la sfilata perché è tutto perfetto cioè voi vedete tutte le persone che sono lì che si muovono all'unisono cioè è quasi impossibile umanamente da fare ma anche lì state una settimana giorno e notte a fare le prove della sfilata cioè è tutto estremizzato ai massimi livelli perché per raggiungere la perfezione sì niente è perfetto ma vi garantisco che la legione ci si avvicina in tutto quello che riguarda l'obiettivo che ha in mente di raggiungere quindi che sia una sfilata per essere belli che sia un combattimento per essere performanti la strada è quella cioè devozione e costanza e appunto martoterapia giorno e notte a fare e riprovare quelle cose lì quindi anche lo stirare sarà una cosa che farete da da donna delle pulizie non da soldati ma lo dovrete fare giorno e notte con le lampadine frontali in fronte state lì a stirare perché magari chi ha già stirato dorme voi che non riuscite a stirare dovete stare lì e stirare e la differenza punta in questa chi ha stirato molto spesso deve aiutare chi deve stirare perché perché è vero che io ho stirato quindi la mia divisa è pronta ma se il mio collega la divisa non ce l'ha pronta non posso fare la sfilata neanche io quindi ci rimetto anche io questo molto spesso porta un conflitto all'interno perché poi dopo arrivando ai livelli di stress molto alti favorisce a volte un conflitto ma dopo il conflitto c'è un'unione che io da figlio unico che non ho fratelli posso dire di sapere cosa prova un fratello per un altro fratello perché dopo dopo questo legame che si crea tra chi sta lì e gli altri è una cosa indiscrevibile forse più forse più di un fratello a volte ho degli amici con dei fratelli e vedo che non hanno lo stesso rapporto che ho io a oggi ancora con ex colleghi o colleghi che sono ancora rimasti quindi è la forza della legione è anche questa soprattutto questa l'aiutarsi fino alla morte in tutti i modi possibili immaginabili un'altra cosa che vi viene chiesta è di sbrigarvela da soli non importa come loro vi dicono voglio che tu faccia questo come non vi chiedono come una volta che voi l'avete fatto non mi viene chiesto come l'avete fatto basta che è stato fatto questo è un consiglio che mi permetto nonostante sono giovani di dare a tante persone oggi perché molto spesso quando sono di fronte a un problema o a una una difficoltà tanti dicono è ma come faccio molto spesso sento dire come faccio non conta come lo fai l'importante è che uno c'è si deve ragionare nel fare quella cosa non come la deve fare l'importante farla poi come non è un problema nessuno mi verrà a chiedere è ma tu come hai fatto a andare così forte essere così bravo l'ho fatto l'importante farla punto e questo è anche questo è uno scoglio molto grosso da dover superare lì dentro perché anche io ovviamente mi chiedevo come mi dicevano fai questo e io dicevo sì ma come no devi farlo punto poi come non è un problema se hai rubato se hai fatto cose magari che non dovevi fare non importa l'importante è che tu l'hai fatto poi si pagano le conseguenze di quello che si è fatto ma l'importante è farlo punto e questo è quello che mi viene chiesto lì dentro stira come non so ma la divisa deve essere stirata per domani non ho tempo e lo trovi il tempo prendi un altro con due ferri da stiro e stile la divisa a tutto c'è una soluzione a tutto l'importante è volerla trovare e volerla fare tutto qui questa è una cosa che vi aiuterà molto soprattutto lì dentro ma anche magari per altri per altre cose dopo l'addestramento c'è un ranking cioè voi venite valutati sempre h24 siete sempre sotto osservazione siete sempre valutati non non avete un minuto di tranquillità di serenità in ogni quello in ogni cosa che fate come parlate come vi comportate come camminate come marciate come sparate tutto tutto come combattete vi voi siete valutati dopo di che alla fine dell'addestramento c'è appunto un ranking i primi dieci di questo ranking sceglieranno il reggimento d'appartenenza cioè vi verrà chiesto in quale reggimento voi volete andare i reggimenti della legione sono quelli operativi cioè quelli che voi potrete scegliere una volta finito l'addestramento il secondo rei fanteria nim secondo rep paracodisti e calvi il terzo rei guiana fanteria foresta il primo rech cavalleria a carpiani e una volta era orange il primo regg primo genio reggimento genio all'odan il secondo genio san cristal e la tredicesima brigata la db le che è a oggi all'arzac quando io ero arruolato della legione era a abu dhabi stanziata venne poi spostata sotto richiesta di macron di holland scusate all'arzac perché in seguito a tutti gli attentati che ci sono stati in francia le altre sfere hanno ritenuto opportuno avere un reggimento di legione interna in più rispetto a quelli che c'era poi questa era quello che ce l'ha stato detto poi se la verità è questo no non lo so però il motivo principale era questo o meglio quello che era scritto nero su bianco questi sono i reggimenti dove voi potete richiedere di andare la guiana all'inizio è un po complicato perché molto spesso è il reggimento dove che viene un pochetto più ammirato perché appunto c'è foresta c'è più avventura c'è molto terreno però c'è un numero molto 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 stretto di persone che possano andare e molto spesso valutano cose che non vi dicono per cui mandarvi o meno quindi se non viene accettata la vostra richiesta poi verrete mandati in un reggimento random io personalmente ho scelto di andare nel secondo re infanteria perché perché oggi come oggi a livello di utilizzo il combattimento la fanteria quella che viene utilizzata di più se non fondamentalmente di più paracaturisti anche avrei molto voluto ma è un consiglio che do a per chi è un po più grande fisicamente di non andare se amate la vostra schiena perché è pesante e lancio di un legionario ea 400 500 metri si avete l'automatico quindi quando uscite dall'aereo si apre automaticamente quindi subito ma la discesa è molto rapida quindi l'impatto al suolo è è come se voi saltasse da tre metri e mezzo quindi prima di andare se volete fate la prova saltate da tre metri e mezzo e vedete che effetto fa la schiena vostra io l'ho fatto e non è bello e quindi ho scelto fanteria ero sono finito terzo in gradatoria sono finito terzo perché non ero il più bravo assolutamente ero semplicemente quello che ci si metteva di più perché appunto all'inizio ero uno di quelli più indietro perché appunto tutti erano già quasi animali nel senso che comunque erano cresciuti in orfanotrofi tanti tanti una grossa fluenza nelle giorni c'è dell'est europa perché le parti più povere quando quando non si ha scelta molto spesso prima di cadere in brutte situazioni tanto la gente ragiona perso per perso vado lì è molto spesso ragionamento che fanno è questo quindi chi va lì non è che a molte chance di o scelta di vita e quindi sono persone particolari nel senso che cioè sono già mentalmente forse un po più predisposte rispetto a quello che ero io nel 2014 e quindi ho dovuto faticare molto di più per arrivare al loro livello mentale di di adattamento di stress di situazione e tutto quanto e vengono molto spesso dall'africa quindi paesi tutti i paesi poveri quelle che si possono pensare est europa asia minore pochissimi americani pochissimi inglesi pochissimi francesi pochissimi italiani pochissimi spagnoli perché appunto c'è uno stile di vita più agevolato più agiato rispetto agli altri paesi e quindi la grossa affluenza c'è da parte di paesi poveri e quando e quindi loro erano molto più forti di me sono più forti di me alcuni sono ancora dentro e sono delle macchine da guerra secondo me molto più bravi di me però appunto quello che quello in cui siete valutati è tutto quindi è nel vostro comportamento nel vostro altruismo nella vostra modestia nella vostra dedizione nella vostra bravura nel parlare la lingua nella topografia nelle marce nelle trasmissioni nel soccorso in combattimento nell'utilizzo delle armi tante cose di cui voi dovrete fare dei test e quindi sarete messi alla prova facendo una media c'è il ranking quindi magari succede che quello che era fisicamente un atleta nel percorso ostacoli percorso ostacoli della legione è molto difficile perché viene richiesto un tempo di quattro minuti massimo mentre invece per le terzioni francese si deve fare in cinque minuti a un legionario viene richiesto un tempo massimo di quattro minuti per finire il percorso quindi è dura molto dura poi facendo una media di questi appunto punteggi di queste valutazioni c'è il vostro ranking e io ero finito terzo e quindi ho scelto di andare al NIM e sono stato accontentato eravamo in 11 ad andare al NIM dopo sei mesi scusate un passo indietro prima di andare al reggimento si ritorna tutti a un bagno perché si riprendono i nostri effetti personali quindi il telefono il passaporto i documenti i portafogli tutte queste cose si riprendono tutte queste cose che si sono lasciate ovviamente la prima cosa che ho fatto non lo leggo a nessuno è stato accendere il telefono vedere innanzitutto l'ora e la data e lì ho capito che erano passati sei mesi perché ho detto ok mi ricordavo che mi fossero lato a gennaio ho detto ok erano passati sei mesi dico ok è durato sei mesi sì era caldo quando ho finito ma caldo a sud della Francia poteva essere maggio come aprile come giugno quindi tornato al reggimento ho chiamato mia madre subito immediatamente dopo sei mesi perché fino a lì voi non avete contatti con l'esterno o meglio quando nel 2014 era così non potevate chiamare nessuno e quindi una volta la bella notizia che no tutto bene sono tornato a nîmes a nîmes che è sempre comunque nel sud della Francia quasi tutti i reggimenti della legione sono situati al sud della Francia tranne a Fort de Nogion che è a Parigi Fort de Nogion è diciamo il nostro centro logistico lo centro documentale ecco forse in Italia c'è il centro documentale che c'è a Roma in via Lepanto alla legione c'è la a Parigi a Fort de Nogion è il centro documentale che è anche un centro da ruolamento però comunque poi da lì vi spostano o bagne quindi ritorniamo al discorso che è più privilegiato e o bagne se volete ruolarvi una volta arrivata a nîmes la a nîmes si ricomincia un'altra volta un altro addestramento perché perché ogni reggimento lavora in un modo diverso è facile intuire che la cavalleria usa mezzi la fanteria usa i piedi quindi una volta arrivati al reparto venite assegnati a una compagnia random io finì in prima compagnia nîmes che poi fu spostato in quarta per vi dirò perché venite assegnati appunto a queste compagnie con la quale farete una formazione una volta si chiamava FSI adesso si chiama FTS formazione tecnica specifica una volta si chiamava formazione specifica iniziale fate questa formazione che a nîmes dura più o meno un mese e mezzo a Calvi hanno la promo ogni reggimento la chiama in un modo diverso a Calvi impareranno a lanciarvi col paracadute in cavalleria usare i veicoli al genio de minaggio o minaggio in base alla compagnia dove finite poi e così via a nîmes c'è una formazione tecnica riguardo la fanteria quindi l'utilizzo di più armi maneggio più forse più tecnico delle armi e tutto quello che riguarda il combattimento classico cioè combattimento classico nel senso di combattimento in foresta combattimento urbano combattimento su territori presenti lì in Francia iniziato questo FSI si appunto si imparano a smontare e rimontare tutte le armi nel dettaglio cioè nel senso nel pezzo più piccolo e vi garantisco il FAMAS aveva pezzi di questa dimensione qui e dovete smontarli anche bendati poi quello era una cosa che si faceva per giocare tra di noi che ci si bendava e si smontava e si rimontava le armi ma non è il mito questo forse l'ho sentito dire magari si vocifera che legionario smonta e rimonta le armi bendato in due minuti no perché bendato non riesco nemmeno allacciarmi le scarpe quindi un fucile dura si fa si fa l'ho fatto ma non in due minuti quindi si fa per gioco ecco comunque come come a livello tecnico quello che viene richiesto è che voi siete in grado di smontare e rimontare il vostro fucile perché per pulirlo fondamentalmente o appunto per capire se si è rotto un pezzo eventualmente farlo cambiare e basta quindi si usa poi la anf1 che è la metagliatrice vecchissima che oggi forse neanche si usa più io ho sparato due volte con quella perché era molto pericolosa che molto spesso sparava da sola partiva da sola perché non lo so però succedeva e era un'arma comunque usata da cavalleria quindi su mezzi quindi o sul veicolo sulla ralla o sul sul treppiedi poi ma che 58 famas oggi hk minimi browning beretta fisolo oggi glock 17 lg lg è un lancia granate individuale piccolino diciamo minimo ortaio che è molto molto funzionale molto utile poco utilizzato poi utilizzato perché appunto oggi si combatte in spazi stretti quindi non c'è un grosso utilizzo a me è successo di io non ero lg provvis il mio binomio era lg e l'ho usato due volte tutta la sua vita quindi si usa molto raramente e però si spara molto frequentemente ai tiri di in poligono con quello perché molto difficile da usare perché appunto non è non ha organi di mira ma è tutto più o meno quasi istintivo il tiro a una gradazione con la quale si deve si calcola la distanza ma la direzione è assolutamente a occhio quindi non è un'arma di precisione ma è un'arma d'appoggio e at4 at4 cs è il lancia la lancia razzi della legione straniera il rpg dei jihadisti la legione alla t4 per farvi capire per chi non fosse del mestiere è un lancia razzi che viene usato contro veicoli contro blindati contro grossi edifici contro punti è una grossa cosa che fa boom quindi è un lancia razzi viene usato anche quello quello al contrario di tutte le altre armi è quello che io ho amato di più perché una volta che si usa si getta quindi non si deve pulire non si deve portare indietro si getta perché è una viene chiamata una munizione non è non è come la rpg che si ricarica che lancia i razzi appunto quello è un tubo cavo dove c'è appunto questa questo razzo con una contromassa liquida che dopo l'utilizzo il tubo è praticamente inutilizzabile quindi viene semplicemente gettata e basta queste sono le armi principali che usate una volta quasi in tutti i reggimenti della legione straniera appena entrate poi c'è la vostra arma di reparto cioè per la fanteria per gli altri reggimenti non parlo perché non sono così informato riguardo a fare quindi vi parlerò molto di più sulla fanteria perché quello dove io ho lavorato io ero minimi quindi ero mitragliere appena entrate voi siete legionario come grado quindi valete zero e avete un'arma di reparto all'inizio potete scegliere tra virgolette la vostra preferenza nel senso che quando venite assegnati alla compagnia anim passate rapporto dal capitano col quale parlerete e darete una vostra preferenza la vostra conoscenza delle armi è uguale a zero penetrati quindi non avete un'idea di quello che può essere l'impiego quindi io ho detto tutto tranne sniper quando mi è stato chiesto cosa volessi fare ho detto voglio fare tutto tranne quello quindi tutto mi va bene tranne quello perché perché comunque viene spiegato un po qual è l'utilizzo dello sniper in breve sintetizzandolo è stare fermo in un posto senza muovervi per una settimana e a guardare il nulla quindi ho detto tutto tranne quello perché caratterialmente non sono non sono portato per fare questa cosa tutto qui ma è un per chi volesse è un lavoro bellissimo e fondamentale soprattutto io e quindi essendo alto e grande mi hanno dato la mitagliatrice perché pesa un po di più perché è un po più ingombrante da portare in giro quindi si privilegia l'utilizzo di una cosa più pesante è che più grande piuttosto che un esempio più piccolino più piccolino il limite di altezza non c'è nella regione straniera non c'è nel limite di altezza l'età massima è 41 anni voi fino a 41 anni potete rolarvi dopodiché no ma non c'è limite d'età e non c'è struttura cioè se si è obesi sì ma perché è una malattia non perché è uno vostro status ma per chi ha un po di pancetta per chi è palestrato non cambia niente e io il mio binomio era un giapponesino era alto uno è alto 1 60 e posso garantirvi che era su alcune cose molto più performanti di me che sono 1 90 quindi li capite che tante cose per cui altri eserciti sbagliano molto a scartare persone semplicemente per una cosa estetica o secondo loro funzionale non è vero perché appunto tutto riguarda da quello che c'è qua dentro e qua e quindi lui era lui era lg e io ero minimi quindi che succede una sessione di combattimento è composta da tre gruppi voi verrete messi in una compagnia di combattimento la compagnia è fatta da quattro sezioni le prime tre di combattimento la terza sezione d'appoggio quindi vengono utilizzate più armi d'appoggio quindi sniper milan rx mortai sono armi di grosso calibro che hanno un lavoro di copertura e appoggio a chi è la sezione di combattimento le sezioni di combattimento fanno appunto il combattimento sono molto spesso in base a la terreno la strategia al tipo di lavoro che si sta facendo a contatto con la prima linea la prima linea è appunto lavorata dalle tre sezioni che rimangono parlando di compagnia perché questo è quello molto spesso la legione lavora in compagnie difficilmente è un reggimento che si muove quindi molto spesso quando si va in operazione è una compagnia di un reggimento che va in teatro operativo non è il reggimento che va in teatro operativo e quindi si impara a lavorare ai sensi della compagnia la una sezione indifferentemente dalla prima seconda terza non cambia niente è solo per appunto differenziarle la sezione è composta da capo sezione da tre gruppi di combattimento che sono tre sotto ufficiali sergenti poi ogni gruppo a due squadre formate da tre persone cioè un caporale e due legionari 300 un caporale e due legionari 600 300 sono le distanze di combattimento cioè la squadra 300 ha i fucili e i lanciarazzi la squadra 600 alla minimi e l lg lancia granate lg anche il fucile ovviamente la minimi a solo la minimi e a volte in teatro anche la pistola oggi il gruppo il gruppo di combattimento si è un po allargato perché hanno i mezzi il vbc che è un benzo pesante un blindato da 33 36 tonnellate a piano carico che è un veicolo da trasporto fondamentalmente anche se comunque un cannone da 25 in coassiale con una mag e 58 quindi un 762 nel quale ci sono appunto un pilota e un cannoniere che utilizzano il veicolo quindi siamo più o meno 9 in un gruppo completo sono 9 persone non sempre c'è uno sniper in ogni gruppo perché base a disponibilità in base agli stage in base tutto quanto non sempre sia uno sniper si cerca di fare in modo di avere uno stai per ogni gruppo ma non sempre sia differenziare è tra il tiratore di precisione tepe quello che viene chiamato tepe in legione e lo sniper il tepe ha un fucile da 7 62 lo sniper ha un fucile da 12 7 quindi calibro 50 quindi sono due armi completamente diverse con una distanza completamente diversa la legione usa più il tepe che lo sniper nel gruppo avendo una compagnia di appoggio anim che è formata da cinque compagnie 6 scusatemi che la quinta è stata rifatta più una compagnia logistica la la compagnia d'appoggio appunto anim è una compagnia dove ci sono solo armi d'appoggio c'è una sezione di sniper una sezione di milan che è un lanciamissile una sezione di mortai è una sezione di che viene chiamata essa idea sd aiuto e allo sbarco delle truppe cioè una sezione di commando che è un po più specializzata nel lavoro tecnico infanteria cioè scesa in doppia corda tutte cose che fanno un po più diciamo nei classici suote quelli che le forze speciali e loro aiutano appunto lavorano nella compagnia con la quale vanno poi il lavoro fuori dall'estero la la sezione appunto è formata da queste qua e io ero minimi perché avendo visto così caposizione ma detto ok sei minimi va bene anche perché non esiste no quindi si viene detto è così è così punto quindi ero minimi e minimi ero ho fatto qualche missione come minimi la prima missione è stata in Repubblica Centrafigana a Bangui, Bangui era la capitale eravamo stanziati a Bangui poi ci spostavamo in questo dopo un anno che ero arrolato e dopo quanto si va in missione è in base alla fortuna cioè noi la chiamiamo fortuna perché più si va in missione più è meglio per noi quindi in base alla fortuna io sono stato molto fortunato perché avendo fatto solo cinque anni ho girato molto e ho fatto molti stage un po' perché ero predisposto in alcuni stage portato per farli un altro perché ero fortunato a trovarmi alla quarta compagnia NIM in quel momento lì che era la compagnia che girava di più di tutta la fanteria sono finito poi in quarta perché appunto mentre io ero in prima compagnia che stavo facendo la mia formazione di fanteria che dura un mese e mezzo dopo qualche settimana che ero la la prima compagnia è stata spostata a Abu Dhabi in quella che viene chiamata MCD cioè missione di corta durata e alla quale io non potevo andare perché appunto non avevo ancora fatto la mia FSI quindi ho finito di fare l' FSI con la quarta compagnia dopodiché il capitano ha deciso di appunto visto che avevamo finito di fare la formazione con la quarta siamo rimasti in quarta e quindi questo era perché finì in quarta la formazione più cioè la preparazione più tecnica più forse quella più utilizzata è il combattimento urbano oggi combattimento urbano è tutto quello che riguarda muoversi e lavorare combattere fare ricognizioni riconoscimenti del territorio tutto quanto in centri abitati che sia Roma come che sia Frascati al di là della dimensione comunque è appunto lavorare in un centro abitato perché oggi il conflitto a fuoco molto spesso c'è in queste zone qui nel deserto non c'è quasi più un conflitto nel deserto e quindi si privilegia e si prepara di più gli operatori a lavorare in queste zone qui quindi combattimento urbano dopodiché appunto partire questa missione in Repubblica Centrafricana durata quattro mesi più uno perché proprio al quarto mese quando saremmo dovuti rientrare c'erano le elezioni del Presidente della Repubblica della Centrafrica e dopo determinate azioni da parte del popolo africano era impossibile volare dall'Africa a far alzare aerei e quindi ci hanno tenuto giù un mese in più appunto per appunto visto che eravamo lì sopprimere la ribellione e insomma la rivolta da parte del popolo africano poi dopodiché il mio percorso è stato di scegliere di diventare paramedico perché perché io scelsi di fare il militare in Italia essendo indeciso tra infermieristica e militare allora ho detto ma visto che ora posso fare qualcosa a livello medico comunque paramedico tanto vale visto che già sono militare tanto vale provare a fare qualche cosa a livello medico paramedico e e quindi scelsi di fare lo stagio da paramedico che viene chiamato XAN il primo livello durava perlomeno 4 mesi ora so che dura un po' meno forse hanno accorciato i tempi e come paramedico quello che vi insegnano a fare è appunto gesti sul terreno di stabilizzare la vittima quindi non è che vi insegnano a dare l'aulin o all'antidolorifico a qualcuno se ha male la pancia ma appunto tenere in vita una persona che sta morendo il più a lungo possibile con quello che si ha nello zaino quindi tutto quello che riguarda cognotomia tracheotomia insufflazione polmonare e tutti questi gesti qua fermare un'emorragia esterna o interna interna a livello del bacino sia nella testa sia nelle mani del signore e quindi tutto quello che riguarda queste gestualità qui vi vengono insegnate è molto difficile come stage non perché l'ho fatto io ma perché così come il trasmettitore passo indietro quando vi viene chiesto di fare degli stage quando avete un passato già solido come carriera ecco magari dopo una prima missione dopo un po' di tempo che il caposizione vi vede che siete tranquilli che comunque ormai avete ingranato la marcia nella vita di caserma vi viene chiesto se voi avrete qualche qualche volete fare qualche stage perché appunto lo stage è quello che vi differenzia all'interno della regione c'è il trasmettitore c'è il paramedico c'è il pilota c'è il caposquadra c'è il mortaglio c'è il milan c'è la re x ci sono tutte queste armi che necessitano appunto di uno stage per farli non è che un'arma di reparto alla minimi vi danno alla minimi vi sperano come si usa e è fatta mentre invece il mortaglio capite bene che è molto più tecnica come cosa e quindi deve essere fatto uno stage per rendervi capaci di usare quell'arma e soprattutto il paramedico e il trasmettitore sono gli stage più difficili della regione straniera trasmettitore ho detto mai trasmettitore perché viene richiesto il mors e io non mi sentivo assolutamente in grado di usare il mors e quindi ricordandomi di questa mia indecisione ai tempi del superiore del liceo ho scelto di provare allora a fare anche qualcosa di paramedicina e ho fatto paramedico cosa cambia? Niente perché fondamentalmente comunque voi rimanete in compagnia di combattimento quindi fate tutto quello che state facendo ma in più voi siete paramedico o trasmettitore o mortaio o quello che sia quindi dovete fare il vostro lavoro come sempre in più da paramedico dovete appunto essere voi ad aiutare i feriti o il collega o anche i locali della popolazione a volte è successo di doverli aiutare perché appunto era richiesto dal comando di doverlo fare poi dopo questo stage ho fatto un'altra operazione a Abu Dhabi anche la quarta compagnia poi partì a Abu Dhabi siamo stati giù due mesi e mezzo tornando sono passato capo squadra capo squadra perché? perché appunto anche lì lì vige vale solo la meritocrazia se voi non valete se voi non siete capaci o in grado o bravi non è che non vi possono anche mandare a fare lo stage ma poi verrete comunque scartati e quindi il reggimento tendenzialmente ha una reputazione e quindi come vi dicevo sono il secondo rep e il secondo rei in ordine di reputazione sono i reggimenti quelli un pochino più in nella legione se così vogliamo dire e loro sono molto duri nell'inviare qualcuno a fare lo stage da caporale e sergente perché molto spesso sono quei reggimenti dove vogliono che gli operatori abbiano la posizione più alta nel ranking perché? perché se un cavaliere dovesse finire al primo posto nello stage di caporale davanti a un fante è un po' una vergogna per il reggimento di franteria quindi questo è semplicemente per reputazione non è che perché ho conosciuto cavaliere molto più bravi di franti e di paragonisti però è un discorso di reputazione perché poi alla fine comunque effettivamente sul lavoro concreto il cavaliere sta sul veicolo il fante è a piedi quindi è molto più utilizzato l'operatore fante come persona piuttosto che il cavaliere perché comunque è in un veicolo quindi è diverso l'utilizzo dell'impiego tutto qui e quindi poi sono andato a fare lo stage da caporale una volta passato caporale si lascia l'arma da reparto cioè non si è più minimi ma si è appunto capo squadra capo squadra si parla di fucile d'assalto e pistola quindi doppia dotazione ma se come nel caso mio si è paramedici si rimane paramedici molto spesso il trasmettitore lavora solo con il capo sezione in teatro quindi è alle dipendenze del capo sezione è quello che noi scherzando chiamiamo il segretario del capo sezione perché ovviamente alla radio lui e quindi è lui che ha stretto contatto con il capo sezione per le comunicazioni all'interno della compagnia mentre invece l'oxan il paramedico è quello che non abbandona mai il gruppo di combattimento a meno che voi non scegliate di andare in infermeria ma la scelta di andare in infermeria è sì richiesta da voi ma di pesa molto da capo sezione perché perché se avete un buon utilizzo delle armi se siete bravi come capi squadra o come soldato il capo sezione non vi lascerà mai andare in infermeria perché valete oro per lui cosa che ho fatto io verso il terzo anno di provare ad andare in infermeria ma mi è stato negato di netto sia dal capitano che dal capo sezione quindi ho abbandonato l'idea subito perché non c'era verso di andare dopodiché ho fatto lo stage come secondo livello di paramedico perché loro ho detto magari allora visto che il primo livello non basta voglio fare il secondo livello il secondo livello è vi insegnano cose un po più tecniche a livello di gestualità di corso e anche nel triage quello che si usa poi nei prontosi corsi in italia il triage delle vittime la priorità di feriti insomma questo era quello che era il mio ruolo all'interno della quarta compagnia NIM ero capo squadra e paramedico di secondo livello un periodo ho collaborato appunto con una sezione di americani erano provenienti dai sil dai ranger e da altri reparti che erano paramedici perché in quanto io paramedico ogni tanto all'interno della legione si fanno questi scambi chiamiamoli interculturali così come lo fanno anche con l'italia però non ho mai fatto con italiani purtroppo non lo so per fortuna non ho esperienza e contatto con operatori italiani da legionario e avendo lavorato con loro lo si fa perché per fare un po' la differenza per vedere un po' la differenza ma per migliorarsi quindi che succede che gli americani lavorano in un modo la legione lavora in un altro così come gli spagnoli, i tedeschi, i francesi, gli italiani come lavorava la legione appunto con materiale di scarsa qualità dover ottenere lo stesso risultato che c'ha l'americano che per farvi un'idea il mio zaino da paramedico era uno zaino grande e loro avevano un poco più di un marsupio e il loro marsupio era efficiente tanto quanto il mio zaino e quindi capite bene che a livello di performance loro erano più avvantaggiati sia di peso che di tecnicità di gesti appunto di soccorso ma la differenza stava che noi con quel materiale riuscivamo a tenere in vita molto più a lungo un ferito sul terreno di loro perché perché loro dopo qualche minuto qualche ora massimo hanno un medevac sul posto la legione devono passare qualche ora prima di avere la possibilità di avere un mezzo di evacuazione quindi qualunque sia che sia su terra che elicottero e quindi la preparazione di un paramedico della legione non voglio stare qui a dirvi che è migliore ma ha più conoscenze tecniche di altri operatori paramedici perché appunto non perché gli altri siano meno bravi ma perché hanno mezzi diversi quindi non ha senso stare a spiegare a un paramedico americano di fare una tracheotomia se tanto hanno il chirurgo sull'elicottero che gliela fa per strada quindi cioè alla fine è meglio il loro sistema del nostro ma a mali estremi la legione ecco appunto sa sbrigarsela in questi casi e gli altri terci si affidano forse a mio parere un po troppo alla loro tecnologia e ai loro mezzi che ovviamente uno si augura sempre che siano efficienti e presenti ma la possibilità di non averli subito in quel determinato tempo c'è mentre invece la legione se c'è subito bene se non c'è fa niente tanto è il protocollo che che lo richiede e loro hanno una preparazione mentale forse a mio avviso un po' diversa nel senso che loro vengono più diciamo caricati gli fanno un po più il lavaggio del cervello inteso come credo loro ecco hanno più un credo rispetto a un legionario hanno più un lo faccio perché lo faccio per questo legionario se voi gli chiedete a chiunque l'abbia fatto perché combattevi diciamo perché lo devo fare cioè perché ero lì era il mio lavoro dovevo fare una battuglia e facevo una battuglia appunto non è che né per la pace né per la guerra né per l'Africa né per la Francia né per la Spagna né per la Norvegia ero lì dovevo fare quel lavoro e lo facevo punto questo a mio avviso aiuta molto nel post quindi anche dati alla mano casi di stress post traumatico all'interno della legione ce ne sono molto molto pochi rispetto a qualunque altro esercito perché appunto non c'è un lavoro mentale che viene fatto dietro nell'istruzione ma c'è un lavoro mentale appunto di dovere punto fai questo lavoro perché devi farlo e basta prima lo fai meglio lo fai e prima te ne vai non è che lo fai perché c'è un credo e quindi a livello mentale sia nel bene che nel male si nel bene magari viene vista come una cosa un po' asettica no quindi un po' fredda ma nel male aiuta molto perché appunto se finisce male è il lavoro punto poi come a missione all'estero sono stato anche in Martinica la missione è stata la Martinica Repubblica Dominicana ma quella era una missione di corta durata dove lì appunto abbiamo fatto uno stagio nautico in palude quindi anche lì ci hanno insegnato appunto a muoverci a lavorare in determinate zone e dopodiché poi tornando da lì ho preso anche la patente come pilota di VBC che è il veicolo blindato della legione ma me l'hanno me l'hanno concesso come diciamo regalo di buona uscita anche perché non sono mai stato pilota in teatro di veicoli ma soprattutto anche perché poi in caso il pilota venisse ferito o stesse male serviva qualcuno che fosse in grado almeno di condurre il veicolo anche per tornare indietro insomma e quindi queste erano le mie skill all'interno della della legione e perché sono venuto via perché come ogni lavoro quindi veramente cioè io stimo tantissimo un chirurgo tanto quanto un professore di Harvard perché sono determinati lavori che per farli bene ci si deve dedicare tutto se stessi e tutta la vita quindi molto spesso viene sacrificato quello che è magari appunto la vita stessa cioè la vita stessa nel senso che io mi sono ritrovato a 29 anni nel 2019 che ero sì un legionario sì pronto per passare di grado pronto per andare avanti nella carriera perché avevo la strada quasi spianata davanti a me perché comunque ho sempre dato il massimo e quindi sempre apprezzato e sempre premiato ma ero solo ero solo nel senso che al di là dei colleghi tornando a casa si avevo i miei ma i miei li vedevo due volte l'anno massimo tre e dopo cinque anni era iniziava essere pesante questo è quello che riguarda ognuno di noi cioè per me la priorità era più era diventata un'altra piuttosto che quella così come alcuni colleghi che sono rimasti è perché loro hanno dato più priorità alla loro carriera non è un giudizio e non è una hai fatto bene hai fatto male è semplicemente una 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 scelta di vita nel 2014 ho scelto di tagliarmi fuori dal mondo nel 2019 ho scelto di ritornare a far parte di questo mondo qual è stata la scelta più difficile la seconda tutta la vita è stato dopo essere entrati dopo aver fatto i cinque anni a oggi posso dire che è stato più difficile tornare indietro dalla legione e piuttosto che nel 2014 quando sono entrato perché perché entrando nella legione straniera una cosa che io volevo con tutto il cuore era una cosa che per me era una messa alla prova era una una sfida per me e quindi ero totalmente immerso in questa cosa e al 100 per cento convinto di dovercela fare di dover portare a termine quello che io avevo scelto di fare mentre invece uscire è stata una scelta morale e quindi cioè professionalmente oggi faccio un lavoro che è diverso da quello che era la legione straniera ma professionalmente per me il lavoro più bello del mondo è quello cioè poter tornare nella legione straniera perché era quello che io ho scelto di fare era quello che io sono riuscito a fare grazie solo a me stesso mentre invece tornare indietro è stata una scelta che ho fatto per avere una seconda chance diciamo una seconda possibilità di rivivere una vita normale quindi avere un lavoro con degli orari perché lì non si hanno orari per farvi capire una volta che voi entrate la libera uscita della scordate fino a tre anni di servizio perché perché ci sono da fare le guardie i picchetti le cerimonie e quindi molto spesso quando il weekend non siete di guardia siete di guardia dovete fare un picchetto o viceversa e quindi e non esiste e ma io l'ho fatta ieri la guardia cioè lì come vi ripeto tutto quello che vi viene detto è legge è ordine non esiste perché o ma è così è così punto e quindi capite bene che non anche in francia è difficile farsi una vita sono uscito sì a volte in francia dopo qualche anno di servizio quindi era un pochettino più anziano come si può dire in italia e quindi magari prima di me c'erano altri che come ho fatto io toccava loro ora però non è che ogni sera c'era la libera uscita o ogni weekend era libero perché appunto c'era comunque da fare altre cose e quindi sì si usciva ma appunto capite bene che uno non può farsi una vita in un posto uscendo una volta al mese una volta al mese per conoscere forse quelle due tre persone nel locale quella sera ma poi un mese dopo ti sono scordati di te perché non ti vedono più e quindi era questo che mi mancava non era la vita mondana non era la bella vita era appunto avere una situazione sociale uno status lì ero solo un oggetto ero uno strumento di lavoro mi mancava un po' questo mi mancava un po' questo non tanto la famiglia riguardo mio padre e mia madre ma non perché non li voglio bene o anzi tutt'altro però comunque mentalmente il fatto di crescere nella vita nel corso di ogni persona ci si allontana un po' si esce dalla famiglia appartenenza per crearsene un'altra a me era questo io ero uscito dalla mia ma non riuscivo a crearne un'altra perché a quei ritmi a quei livelli non non mancava proprio il tempo materiale per fare una famiglia e quindi sono sceso sono uscito solo esclusivamente per questo motivo qua come si fa ad uscire una volta che voi vi arrolate l'unico modo per uscire è alla fine del contratto non esiste un periodo di prova non esiste ci ho ripensato non esiste mi manca la mamma no voi avete firmato la firma che voi avete messo riguarda la vostra durata del contratto cioè cinque anni né di più né di meno non potete firmare nemmeno né di più è cinque anni il primo contratto quindi voi potete uscire in due casi o da disertore o da morto punto questo vi viene spiegato all'inizio o disertate o morite o uscite alla fine del contratto dopo cinque anni durante cinque anni che succede che in base al vostro livello di avanzamento di carriera in base alla vostra situazione in base alla vostra sanità ad un certo punto vi verrà chiesto di rifirmare o non vi verrà chiesto da che dipende da voi perché è normale e logico pensare che un bravo soldato il capitano ha interesse a tenerlo con sé un soldato mediocre è uno che crea solo problemi, ha una testa calda è uno che non ha voglia di lavorare e non ha nessuno interesse a tenerlo con sé quindi che succede? che se voi siete come nel secondo caso il capitano non vi chiede di firmare niente e dopo cinque anni viene tornato a casa e non è che venite riformati venite semplicemente non accettati per una rafferma e basta se invece siete validi vi contrattate proprio cioè è un appunto contratto contrattate la vostra carriera a me è successo che essendo paramedico di primo livello, secondo livello, capo squadra avevo il permesso di dare la patente per i blindati il capitano voleva tenermi perché al di là del fatto che gli ero costato molto a livello di formazione, stagio e missioni avevo un livello buono su tutti i criteri non ero ottimo ero bravo nel nuoto ma scarso nella corsa quindi comunque diciamo che a 360 gradi ero un buon soldato e quindi avevo interesse a tenermi però io non volevo e quindi lì parte il discorso del contratto cioè lui vi fa una proposta voi fate la controferta e viceversa come è successo a me che lui mi ha chiesto di firmare 10 anni io ho detto ma assolutamente no perché non volevo più rimanere è successo che magari c'erano colleghi che volevano fermarsi 10 anni il capitano l'ha detto no massimo 5 quindi questo poi va anche un po' a pelle forse col capitano attuale o col capo sezione o anche col vostro incarico perché una persona che ha solo come specialità pilota capite bene che è poco appetibile per una compagnia di combattimento mentre invece con un trasmettitore che magari parla quattro lingue che magari è forte fisicamente che vuole fare carriera è più appetibile e quindi viene più privilegiato di tenere un soggetto del genere che il pilota e basta non che non sia buono il pilota anzi ce n'è molto bisogno ma è più semplice formare un pilota che un trasmettitore quindi tutto qui in base al vostro stage in base alla vostra funzione la vostra specialità cambia un po' quello che è la vostra carriera e quello che è il vostro percorso dentro la regione e quindi io di fronte alla richiesta da parte del capitano ho rifiutato è andata avanti per un mese la cosa quindi più rapporti più volte a stirare la divisa di notte perché dovevo passare il rapporto però ero allora non è vero non ero convinto tanto come quanto all'ingresso della legione ma sentivo che appunto a 30 anni 29 facevo ancora in tempo forse ad avere una seconda chance di vita facendo un altro tipo di lavoro e di vita appunto e quindi ho scelto ho scelto di uscire ad oggi sì sono ancora in contatto con tantissimi legionari che sono ancora in servizio attivo perché da noi c'è un detto legionari un giorno legionari un giorno legionari sempre perché appunto in base poi anche magari a come si è stati dentro la legione quello che si è vissuto con determinate persone non moriranno mai i contatti i legami con determinate persone con il mio binomio siamo usciti insieme siamo usciti insieme perché poi lui lo mandarono all'Arzac la tredicesima brigata la DBL quando fu spostata in Francia lui Danim gli era stato ordinato di andare a lavorare nella tredicesima non essendo assolutamente contento e volontario in questo ma è stato un ordine quindi è dovuto e quindi dopo tre anni che stavamo insieme ci siamo lasciati lui l'hanno mandato all'Arzac e io sono rimasto a NIM e ci siamo rivisti da Dobbani il giorno del congedo insieme quindi siamo arrolati insieme e usciti insieme abbiamo quasi la stessa matricola lui oggi è in Namibia e ci sentiamo quasi quotidianamente proprio appunto perché anche lui ha fatto totalmente un'altra scelta di vita io bene o male sono rimasto nel settore della sicurezza lui anche però in Africa lui è africano e quindi ecco per rafforzare la cosa che vi ho detto prima il legame che si crea a quel livello è indissolubile forse più forte di un legame fraterno forse e quindi ho fatto questa scelta qua di uscire nonostante tutto perché come ho avuto una seconda chance nell'arrolamento ho rivoluto riprendere la mia vita in mano ad oggi perché sì mi ha lasciato un bagaglio culturale immenso quindi la scelta dello rifaresti sì quante volte infinite più volte potrei rifarlo e più lo rifarei perché quello che vi lascia dentro non esiste università non esiste nonno che vi racconta la sua storia non esiste niente finché non lo fate neanche io posso stare a che parlarvi per ore ma non riuscirei a farvi capire quello che ho provato nel farlo nel bene e nel male sia chiaro più nel male che nel bene ma il male poi dovete essere bravi voi a utilizzarlo per fare del bene cioè brutte scene brutte situazioni servono a crescere più di bei momenti i bei momenti servono a ridere a stare insieme momenti di di allegria di cazzeggio scusatemi i termini ma è veramente quello la parola giusta che serve a fare coesione all'interno della sezione e i momenti brutti servono a far sì che poi vengano i momenti belli perché dopo un momento brutto è obbligatorio che sia un momento di relax e di svago per andare avanti per scordarsi quello che si è vissuto e impiegarlo metterlo in pratica nella vita di tutti i giorni per far sì che non accada più primo secondo perché si sia si è preparati ad affrontare quella quella determinata cosa che potrebbe succedere quindi è un bagaglio culturale anche a livello di lingue io sono entrato che appunto parlavo malapena l'inglese dopo cinque anni lì mi ritrovo che parlo benissimo il francese l'inglese lo spagnolo e qualche parola ovviamente parolacce la più parte di russo perché quelle sono le prime parole che si insegnano quindi anche quello è un bagaglio culturale non indifferente e imparate assolutamente a sbrigarmela sempre da soli qualunque sia la circostanza quindi consiglio di farvi arruolare no perché è una scelta molto difficile è una scelta molto dura è una scelta particolare che ognuno di noi deve fare solo con se stesso cioè quello che il messaggio che voglio far passare io soprattutto è non fidatevi di quello che vi dico io non fidatevi di quello che c'è scritto sui libri ascoltate quello che voi volete fare le mie sono esperienze che possono essere diverse da tanti altri che sono stati dentro la legione straniera che è così perché io l'ho vissuto in un modo altri colleghi l'hanno vissuto in un altro modo e quindi non è che perché le mie oggi vi parlo così allora significa che voi arruolandovi sarete così no perché ognuno agisce in modo diverso quindi io non consiglio di arruolarvi nella legione consiglio di puntare in alto partendo dal basso quindi io sarei potuto diventare tenente al massimo nella legione straniera arruolandosi da legione ero semplice si può aspirare a diventare massimo tenente che è ufficiale ce ne sono veramente pochi di queste persone cioè chi è entrato legionario è diventato poi tenente ma è possibile quindi se quello è il vostro sogno fatelo ma non perché ve lo dico io perché è una cosa che ah wow fico fai il legionario fai la guerra no no perché io ammiro tanto un bidello quanto un chirurgo perché il chirurgo che è diventato chirurgo perché gli è stata regalata laurea sei bravo ma il bidello che ha fatto tutti i giorni il suo lavoro per bene è molto più bravo del chirurgo è molto più ammirevole quindi fatelo perché lo volete fare voi non perché è fico o perché oggi sono qua a raccontarlo stando bene e tutto quanto perché appunto magari la vostra esperienza anzi sicuramente non sarà come la mia sarà diversa magari meglio magari peggio quindi non fidatevi di quello che leggete o la gente vi dice fate le vostre scelte qualunque se siano perché voi volete farlo non perché perché pensate che fare il militare sia figo no quella non è una prova la prova potete farla nell'esercito italiano in un esercito standard quella non è una prova quella è una scelta dalla quale tornare indietro è molto complicato sia nel bene che nel male quindi pensateci molto bene se volete farlo e tutto qua grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti